Si parte, ecco il via del match, comincia il campionato primavera, 24-25, comincia con la gestione di palla in fase difensiva della Fiorentina. La sua rincorsa parte, Rubino, palla deviata che rimane lì, può calciare, Spaggiari va su terra e la Fiorentina in vantaggio! Fiorentina in vantaggio, 1-0 per i Viola, Riccardo Braschi spinge il pallone in rete sul diagonale della sotterra di Spaggiari. Poi c'è stata forse una deviazione anche da parte di un difensore del Cesena, ma la paternità del gol dovrebbe essere di Riccardo Braschi, 1-0 a Fiorentina. Dolce dentro a cercare Coveri, Coveri, prova l'assist per l'inserimento di Giovanni Perini, il pareggio del Cesena, l'asse Coveri Perini, i due principali attaccanti di questa squadra sono i due marcatori del match e il Cesena è in vantaggio, 2-1! La girata vincente di Valentino Coveri, ripalta la partita il Cesena in svantaggio inizialmente 1-0, ma che gol quello di Coveri! Invece la Fiorentina ancora prova a innescare sulla corsia di sinistra, Presta che fa 2-2, Francesco Presta rimette tutto in equilibrio. Caprini in posizione apparentemente regolare, Caprini con il destro! La Fiorentina è in vantaggio! Il gol di Caprini al 92esimo! E adesso si è finita per davvero, la Fiorentina vince 3-2 a Forlì contro il Cesena, primi tre punti per il Viola, debutto positivo ma senza punti per la squadra romagnola.